Nessuna legge di bilancio ha dato tanto alle categorie più deboli, alle fasce del reddito più basso. C'è l'allargamento della platea per gli aiuti per le bollette, che sono il problema attuale, che assorbe due terzi della legge di bilancio. C'è una rivalutazione del 120% dell'inflazione, per cui una rivalutazione vera, delle pensioni minime. C'è la riduzione al 5% dei prodotti per l'infanzia e dei prodotti per l'igiene femminile. C'è la tessera sociale di 500 milioni proprio per le situazioni particolari. C'è l'aumento delle detrazioni per le famiglie, per i figli, l'assegno unico universale, che però era troppo poco finanziato. C'è l'aumento del cuneo fiscale dal 2 al 3%, avremmo voluto fare di più, proprio nelle fasce di reddito più basse. C'è la decontribuzione. Allora, benissimo, sarebbe stato bello fare di più. Ma i fondi non c'erano. Queste cose non erano state fatte prima, noi le abbiamo fatte.